voilà ciao come state è un po di tempo che non ci si vede ma ragazzi questa cosa è dovuta molto banalmente al fatto che non c'ho proprio tempo e il video che sto facendo oggi è quasi una scappatella che mi riservo per non sbroccare insomma sono parecchio impegnato e andiamo un po a concludere il discorso che abbiamo fatto sui sigari della cosiddetta linea tradizionale delle manifatture sigaro toscano e quindi parliamo del classico non è comunque un sigaro quello che sto fumando che proviene da questa scatola che quella da 5 che potete provare potete scusate trovare ovunque ma sto fumando un sigaro proveniente dalla scatola da 10 sigari la versione vintage che vorrebbe un po ridireare i pacchi con cui il monopoio vendeva i sigari toscani tantissimi anni fa ci prova perlomeno allora toscano classico come vedete l'ho già ammezzato e acceso è un sigaro che non fumo così spesso e con il quale uno stranissimo rapporto si potrebbe dire quasi dio di amore cioè odio si fa per dire ragazzi ovviamente è un sigaro di cui periodicamente compro una scatola che ho sempre nella mia scorta poi però me ne scordo ogni tanto la riprendo mi riaccorgo della sua esistenza mi fumo qualche sigaro però non è una fumata che mi appassiona particolarmente dei sigari della gamma tradizionale ricordiamo essere classico extra vecchio antico sarebbe quello con più anni alle spalle su ogni scatola anche quella da cinque sul retro troverete scritto il sigaro italiano il sigaro scusate degli italiani dal 1930 questo è vero e non è vero nel senso che il toscano di una volta non ha proprio nulla a che vedere con quello attuale perché se ci pensate nel 1930 tutti i sigari venivano ancora fatti a mano alla produzione di sigari a macchina si è passati nel negli anni sessanta se non ricorda male e quindi questo c'entra poco niente col vecchio toscano ecco prima non venivano denominati toscano classico io ho visto perlomeno una scatola degli anni settanta quei vecchi pacchetti di sigari del monopoio e la dicitura toscano classico non c'era c'era solo sigari toscani punto se voi sapete quando è stata aggiunta la denominazione toscano classico scrivetemelo scrivetemelo nei commenti insomma dicevo sigaro fatto nelle manifatture di lucca fascia esterna in kentucky nazionale ripieno short filler in non si capisce bene una mistura di kentucky nazionale più indefinito kentucky esterno allora la cosa brutta secondo me è che come molti altri sigari della toscano oramai tutti i sigari sono in formato sigaretta sono in formato sigaretta e non è proprio carino perché io una cosa non so voi ma una delle cose che mi piace di più che mi piaceva per lo meno dei toscani è andare a cercare il sigaro più ciccione nella scatola fumarsi subito quello e per poi tenersi i più magri per altri momenti e invece questo sigaro l'ho trovato sempre slim sempre più slim mi ricordo insomma una volta i classici erano un po più ciccioni un po più bitorsoluti erano proprio più stortignacoli nel vero senso della parola adesso sono dritti quasi non hanno pancia ora questo ammezzato però potete vedere anche voi non ha una forma esattamente conica nel punto dove dovrebbe esserci la pancia ammezzata non c'è questa larghezza però questo sigaro dovrebbe essere stagionato sei mesi ma in realtà non me l'ho mai posto il problema mi sono accorto che sulle scatole la stagionatura si presenta come un 4 punti su 5 quindi presumo che non sia più 6 mesi anche questo ve lo chiedo cioè scrivetemelo nei commenti è un sigaro che non mi appassiona a me per diversi motivi io devo dire la verità quando lo provai anni fa per la prima volta mi ricordo un sigaro più buono un sigaro più sbilanciato sulle note legnose di frutta secca oggi è un sigaro sì che ha questo bouquet sempre legnoso a crudo si sente il tipico odore di stalla infumata si può sentire un po' la frutta secca e ha conservato quella caratteristica si del pizzicore quel po' di piccantezza che lo fa chiamare in gergo un sigaro scorbutico sì è un sigaro caratterizzato dal pepato però questo pepato a me personalmente dà fastidio perché mi sembra sbilanciato rispetto ad una non elevata carica nicotinica è comunque di forza media però la carica nicotinica è tutto fuorché elevata insomma voi sentite sempre questo pizzicore dall'inizio alla fine che non vi lascia più vi si attacca all'ugola può piacere io penso che ci siano degli estimatori di questo sigaro perché per carità le politiche di distribuzione delle manifatture sigaro toscano sono ovunque è impossibile non trovare i toscani della linea tradizionale però i tabaccai cioè se non vendessero non li ordinerebbero più sicuramente ci sono anzi se passano e vedono il mio video chiederei agli estimatori del classico di scrivere nei commenti perché apprezzate il classico sinceramente dei tre io preferisco l'extra vecchio come ho già detto nei video precedenti questo qua lo vado a cercare proprio quando non so di preciso che cosa fumare la cenere è piuttosto bruttina ogni tanto ha bisogno di qualche correzione non si può dire che sia proprio un sigaro malvagio però non è neanche il meglio poi bisogna fare un discorso se andiamo a vedere delle recensioni fatte da fumatori non italiani di questo sigaro e che quindi sono incluse nel numero delle persone poco avvezze al sigaro di Kentucky italiano questo sigaro non viene mai recensito male quindi non si può dire almeno io non ho mai visto nessuna recensione negativa non si può dire che sia cattivo però ormai con tutta la varietà dei sigari esistenti con tutta la possibilità di scelta un po' come sapete no? il Garibaldi il Toscanero anche il classico viene schiacciato da tutti gli altri prodotti e viene un po' dimenticato a me anche di gusto di aromi non mi soddisfa trovo il suo bouquet gustativo aromatico sempre un po' impastato incostante da sigaro a sigaro a volte ho sentito delle note cartonate una guamosa nota cartonata qualche volta qua la sento però ecco non è un sigaro oggettivamente che vado a cercare non mi sento di sconsigliarlo punto primo perché non sono nessuno per consigliare sconsigliare qualcosa però non lo so secondo me non è neanche così adatto così adatto per chi inizia perché comunque ha un'impronta più orientata verso il sigaro amaro se uno inizia non lo so magari avrebbe bisogno di qualcosa di più rotondo questo qua sì comunque va provato uno non può non passare dal toscano classico prima o poi lo assaggerà e voi che ne pensate lo fumate comunque tutti lo fumiamo eh non stiamoci a girare attorno tutti lo fumiamo o lo abbiamo fumato quindi come al solito anche se non siete d'accordo con me anche se avete un'idea molto diversa siete invitati tutti a scrivere nei commenti e niente con questa ci vediamo alla prossima e niente ciao